Ciao Astronomers! Oggi voglio mostrarvi il telescuro che vi dovremo mostrare nel TG2023 Astronomi e Telescope Tred Show, in Essenz, germania! Questo è il telescuro 80 in Nick Edge Edge 8 in 20 o. con il nuovo EGLE 5 computer, con modulo medio ambiente, esatto 2 in layers ALP, lavoratore fuoco profilo, rotatore della camera arco e rotatore della fila a fila, Giotto di generatore gioco via lato e sotto rotatore dell'acqua in alto. I telescopi oltre sono un grande strumento per l'astrofotografia perché offrono un grande performance per le immagini di scuola, grazie anche al reddito del 0.7 e della immaginazione di immaginazione planetaria. Ma questi telescopi integrano un corretore optico che necessita il sensore del camera di una distanza precisa di backfocus, e il modello di 8 in ha un più corto backfocus che i più grandi. In questo caso abbiamo installato su Edge HD 8 in ha un nuovo esatto 2 in hallo profilo robotico che, grazie alla lunghezza optica, ci permette di collegare anche il nostro rotatore arco e la camera calda con il filtrato. In fronte del telescopio puoi vedere il generatore Giotto Smart Flat Field, che puoi usare per registrare file di calibrazione di filtrato e ha un capo motorizzato remotente, grazie al motore del telescopio alto. Inoltre per ricordare le immagini di filtrato, è importante avere un pannello di filtrato più grande che l'esternale diametro di audio shield del tuo telescopio, e perché l'esternale del telescopio 8 in ha un diametro di esternale di 232 mm, abbiamo preso Giotto 255, che capisce completamente l'elemento fronte del telescopio. A parte dell'Edge HD 8 in ha il nuovo Eagle 5, che abbiamo installato in parallelo al telescopio, usando il Plus Love Mende style 350 mm doftail bar. Il Eagle 5 non solo permette di prendere il controllo remoto di tutti i vostri dispositivi preferiti, e con l'astrofotografia software per windows che preferisci, distribuisce il power to 12V devices and new heaters, in questo modo migliorando il gestione di cable. E l'Eagle 5 viene con molti sensori built in, che permettono di avere un controllo remoto del tuo telescopio. In questo modo potrei usare questo telescopio, per esempio, dal mio bambino di casa, e controllarlo semplicemente, dal mio quarto vivere, o potrei controllare remoto da internet, in la stessa forma che puoi controllare un completo observatorio astronomico. Questo è un grande sistema di astrofotografia con l'Edge HD 8 in ha il telescopio, non è? Siamo a mostrarlo, e molto più, al prossimo ATT 2023 Astronomy & Telescope Trade Show, in Essen, Germania. Allora, ci vediamo presto! Ciao!